Qui vi presentiamo le 5 migliori carrelli portapacchi. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Vigor 59703 10 pala carrello portacasse ribaltabile. La capacità di questo carrello a gabbia è di 150 kg, un'efficienza che consente di spostare anche pesi pesanti. La sua struttura è totalmente in acciaio ridipinto e procedure 52,5 x 46 x 115 cm peso 11,6 passando al numero 4. Tecta che carrello portacasse manuale da trasporto. È un carrello globale con una capacità di 80 kg di tonnellate. In posizione eretta, il manico è regolabile su tre altezze, da 78 cm fino a 103 cm. Viene fornito completo di un anello in acciaio che consente di appendere sacchi e anche borse, come la pattumiera. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Finiter carrello portacasse in alluminio Carrello portapacchi pieghevole carico massimo. Prontamente disponibile in nero, blu e rosa. Questo carrello con struttura in lega di alluminio leggera e ruote in PVC ha una capacità di carico di 80 kg. È immune alla ruggine e alla ruggine. I punti di alleggerimento sul pavimento e il cavo elastico in dotazione mantengono saldamente gli oggetti da trasportare. Almostat è top of our list at number 2. Meister 8.985.530, carrello con piattaforma. Realizzato con un comodo quanto ampio pianale, questo carrello ha una portata di 150 kg. Ha una finitura antiscivolo per permetterti di portare il prodotto in sicurezza, senza il pericolo che si sposti. È dotato di ruote di guida totali con freno a mano, molto utili ad esempio la movimentazione viene eseguita su superfici leggermente inclinate anche per realizzare il carico e anche lo scarico di oggetti in ottima struttura. E infine il numero 1 della nostra lista. Bocca capacità 190 kg carrello pieghevole per scale. Ha una capacità di carico massima di 190 kg, consentendo di svolgere anche attività impegnative. Dispone di 6 ruote per eliminare fastidiosi dislivelli in elevazione come le scale, per evitare urti oltre che per aperture e inoltre per spostarsi con facilità anche su superfici lisce. Il robusto telaio in acciaio al carbonio e le ruote in gomma di qualità garantiscono una certa stabilità e la massima longevità del telaio. Può essere piegato facilmente per riporlo in una piccola area quando non è necessario utilizzare per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.